Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City in apertura all'emergenza sanitaria. Crescono i casi di contagio da Covid-19 in Campania, registrati 3.334 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Boom di contagio a Torre del Greco, certificate 123 nuove positività. Facciamo il punto nel nazionale, il ministro Speranza si dice fiducioso, pronti vaccini per inizio 2021, mentre Conte chiede prudenza ed un Natale più sobrio. Spazio alla cronaca, sanzionati nel napoletano 700 soggetti che percepivano indebitamente il bonus spesa Covid-19, indicando un valore ISE più basso. Tavolo di lavoro tra l'amministrazione comunale e il coordinamento delle attività produttive della città e abbiamo ascoltato Giuliano Esposito, responsabile della stecca di Torre del Greco. Infine lo sport con la Turris che sarà impegnata domenica contro il Catania. I Corallini, dopo tre pareggi, cercano la vittoria. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Salle il bilancio dei casi positivi al Covid-19 in Campania. Registrati nelle ultime 24 ore, 3.334 casi di contagio su 23.496 tamponi effettuati, certificati anche 13 decessi dal 13 al 18 novembre. Il quadro nei comuni vesuviani non è rassicurante. Ben 123 nuovi casi di positività al Covid-19 nel comune di Torre del Greco, registrate 13 ulteriori guarigioni, ma anche il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare a regime ospedaliero. Sono quindi 998 le persone attualmente positive al virus in città. Si abbassa il numero dei nuovi contagi e la percentuale dei casi positivi rispetto ai tamponi effettuati a Castellammare. Sono 35 nuovi cittadini risultati positivi al tampone. Intanto il sindaco Cimmino ha affermato. C'è molta preoccupazione per la prospettiva di una ritrovata normalità nel periodo natalizio. A mettere a rischio la cittadinanza sono propri comportamenti sconsiderati di persone irresponsabili. 23 nuovi casi di contagio a Torre Annunziata nelle ultime 24 ore. Registrate anche 4 guarigioni. Attualmente nel comune Plontino sono 477 i cittadini positivi. 465 dei quadri, in isolamento domiciliare e 12 ricoverati. Sale quindi a 818 il numero delle persone che hanno contratto il virus a Torre Annunziata. È di 723 il numero dei casi di contagio da Covid-19 ad Ercolano a fronte dei 403 guariti su un totale di 5722 tamponi effettuati a partire dallo scorso 1 ottobre. Mentre sono 4 i cittadini che hanno perso la vita. Il sindaco Bonaiuto ha scritto «Limitiamo le uscite, restiamo a casa per quanto possibile, non dimentichiamo mai la mascherina e manteniamo la distanza sociale». Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza in vigore da oggi, con cui rinnova le misure relative alle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Valle d'Aosta. I dati che iniziamo a ricevere lasciano intravedere la luce in fondo al tunnel, ma bisogna avere un approccio prudente, ha affermato il ministro. Dopodiché Speranza ha fatto il punto sulla questione vaccino anti-Covid. Le prime dosi sono previste a inizio 2021. La distribuzione vedrà come primi beneficiari il personale sanitario e poi le persone in ospedale e nelle residenze sanitarie esistenziali. Il ministro però resta prudente. Dobbiamo ancora compiere dei passi formali. Le misure restrittive sono l'unico strumento che ora abbiamo per abbassare il contagio e metterlo sotto controllo. È evidente che provocano sacrifici sul piano economico e culturale, ma come mostrano i numeri preliminari degli ultimi giorni nel nostro paese, dimostrano di funzionare. Intanto il premier Conte mette sul tavolo 1,4 miliardi di euro per il decreto di storie per le attività chiuse nelle zone russe ed arancioni. Con l'avvicinarsi delle feste natalizie, il presidente del Consiglio ha sottolineato. A Natale dobbiamo già predisporsi a passare le festività in modo più sobrio. Veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili. Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Sul fronte scuola l'azzolina è chiara, deve restare aperta perché non rappresenta la fonte primaria di contagio, appoggiata anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'OMS infatti sostiene la necessità di una scuola aperta, poiché la chiusura può generare disagio psicologico e dispersione scolastica. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dei controlli dei confronti dei soggetti per eccettori dei bonus spesa Covid-19, ha scoperto che oltre 700 soggetti hanno ottenuto indebitamente il beneficio dichiarando di trovarsi in condizioni di difficoltà economica, ovvero di indigenza, tali da non consentire nemmeno il minimale approvvigionamento di genere alimentare di prima necessità. È emerso infatti che uno o più componenti dei nuclei familiari monitorati, a seconda dei casi, avevano ricevuto lo stipendio o una pensione, anche per cospicui importi, percepito il reddito di cittadinanza, indenità di disoccupazione o altre prestazioni sociali agevolate oppure alterato il proprio stato di famiglia, indicando soggetti fittizi o non residenti per incrementare la somma da percepire. Davvero tante le situazioni di rilievo si va dai coniugi che hanno richiesto entrambi il bonus ma per lo stesso nucleo familiare a soggetti che già percepivano lo segno di mantenimento per separazione, a titolari di partita IVA e persino a congiunti di esponenti della criminalità organizzata. Nella maggior parte dei casi è emesso che i nuclei familiari monitorati hanno indicato un ISEE con un valore inferiore a quello previsto. È emblematico a riguardo il caso di una signora napoletana scoperto dalle fiamme gialle del primo nucleo operativo metropolitano che ha presentato un'attestazione ISEE pari a 4.895 euro ma che in realtà, come appurato, era di oltre 67.000 euro. La stessa inoltre deteneva i spami sui propri conti correnti per 325.000 euro e un patrimonio immobiliare del valore di circa 36.000 euro. Nel complesso sono state irrogate sanzioni amministrative per indebita percezione di erogazione pubblica per oltre 250.000 euro e sono stati segnalati trasgressioni agli enti comunali al fine di avviare il recupero delle somme indebitamente percepite. Le attività di controllo testimoniano l'impegno della Guardia di Finanza, l'azione di contrasto ad ogni forma di illecito al danno della spesa pubblica nazionale, al fine di prevenire e reprimere, soprattutto in un periodo di crisi economica e sociale causata dall'emergenza sanitaria, la fattispecie di indebita percezione delle risorse pubbliche destinate alle famiglie realmente bisognose e maggiormente colpite dagli effetti economici derivanti dall'emergenza in atto. Un tavolo permanente di lavoro tra l'amministrazione comunale di Torre del Greco ed il coordinamento delle attività produttive della città per una ripresa economica del territorio. Alle telecamere di TV City, la presidente della Sticca di Torre del Greco, Giuliana Esposito, rappresentante dell'Asco. L'amministrazione comunale ha raccolto immediatamente la proposta di questo coordinamento, quindi è stato costituito un tavolo di lavoro permanente. Quindi l'idea è quella di partire oggi dalla situazione emergenziale, ma continuare a lavorare anche per il futuro ad un dialogo continuo e di confronto tra quelli che sono i bisogni delle aziende e la definizione delle politiche dell'amministrazione comunale. Il momento di crisi sta colpendo tutti. Molti sono i settori che stanno risentendo maggiormente la seconda ondata. Ci sono sicuramente dei settori che stanno risentendo maggiormente. Si pensa in particolare al settore del turismo, della ristorazione, però non possiamo chiaramente ignorare le piccole aziende legate al commercio che pur non avendo subito delle restrizioni in maniera diretta stanno comunque risentendo di un disagio economico che la popolazione tutta sta vivendo. Chiaramente anche le attività impenitoriali legate all'artigianato, con tutte le limitazioni che in questo momento il settore sta vivendo, sta vivendo delle sofferenze, per cui senza entrare nel merito e nelle specificità, chiaramente è un problema che riguarda a 360 gradi tutte le attività che vivono a Torre del Greco. Illustrato, un piano per aiutare le aziende in difficoltà. Noi ci stiamo concentrando su tre filoni di attività. La costruzione di uno strumento che possa ridurre l'impatto di quelle che sono le imposte che gravano sulle aziende che in questo momento hanno un problema serio di liquidità e quindi di questo ovviamente dobbiamo necessariamente parlare con i dirigenti e con l'amministrazione. sull'individuazione di uno strumento che possa incentivare gli acquisti e l'utilizzo di servizi in un periodo brevissimo, quindi entro la fine dell'anno, sulla costruzione e sulla definizione di alcuni fondi di garanzia per l'accesso al credito, sempre per far fronte alla carenza di liquidità e sulla costruzione a lungo termine di un sistema economico circolare. Possiamo soltanto rimboccarci le maniche, utilizzare tutti gli strumenti che sono a disposizione in questo momento per poter far fronte all'emergenza e per costruire nuovi scenari. Si avvicina la doppia trasferta in terra siciliana per la Turris, impegnata domenica alle 14.30 allo Stadio Massimino di Catania e mercoledì a Renza Barbera nel match di recupero contro il Palermo. I corallini reduci tra tre pareggi di fila si recheranno su solo Etneo per cercare di conquistare il risultato utile in ottica salvezza. Nonostante il quarto posto ex eco con il Catanzaro a quota 16 punti, l'obiettivo infatti resta quello della salvezza. Di fronte però ai ragazzi di Franco Fabiano troveranno un Catania che cercherà di bissare la vittoria tenuta in casa mercoledì contro la Vibonese per 2-1. Gli uomini del tecnico Giuseppe Raffaele, che sarà assente per squalifica, cercheranno a loro volta di scalare la classifica. È dunque avvisata la squadra ritorno del greco che alle pendici dell'Etna non può vantare sicuramente su un ruolino positivo. La Turris non ha mai vinto al Massimino sui sei precedenti, che ha visto ben quattro vittorie in favore dei rossazzurri e due pareggi. L'ultimo scontro assoluto tra le due compagini risale alla stagione 98-99 e da loro fu 1-1 allo stadio Medico Liguori. L'arbitro dell'incontro sarà Luca Angelucci di Foligno, che ha diretto già due volte in passato la Turris negli 0-0 Casalinghi contro Marcianise e Cavese. Novità dall'infermeria, Fabiano dovrebbe contare a tal proposito sul ritorno tra i convocati di San Domenico e Brandi, mentre si allungano i tempi per Signorelli. Il problema retto femorale dovrebbe tenerlo fuori in vista dei due impegni ravvicinati in Sicilia. Il derby dei due Vulcani non sarà dunque un match agevole per i Corallini, che ciò nonostante proveranno a sfoderare un'altra prova di forza in trasferta per mantenersi imbattuti lontani dall'Iguori. Grazie per la cortese attenzione, per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione-tvcity.it o al numero di telefono 340-6561-484. Grazie e buon weekend! Grazie a tutti!